e ciao a tutti eccoci qui noi siamo mm8 e mio padre claudio vicino a me ciao pa ciao a tutti allora rimonta del milan in casa della lazio 2 a 1 o meglio 1 a 2 se vogliamo però come dice già luca siamo ancora padroni del nostro destino perché comunque mercoledì su da zone continuavano a dire che il momento della verità era questa sera ma secondo noi effettivamente il momento della verità sarà proprio mercoledì visto che c'è bologna inter il recupero è quella la partita vabbè anche quella ovviamente ma soprattutto forse quella in questo momento la partita da vincere e che ci permetterebbe di andare non ricordo sia più uno o più due sul milan comunque anche fosse più uno ci ricordiamo qualche anno fa il napoli proprio di sari che stasera ha perso contro il milan che per un punto ha perso lo scudetto con la juve pur avendo la battuta in casa sua allora adesso però non facciamo troppi pasticci troppe confusioni parliamo di lazio milan 1 a 2 appunto prima però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto di attivare la campanella per non perdermi mai nessuna notifica di seguirmi su instagram dove ho anche la pagina del canale mm8 punto il musicista nel pallone e di seguirmi anche su facebook allora pa che possiamo dire che possiamo dire che noi dobbiamo vincere fino alla fine del campionato basta che noi vinciamo sempre se ultime partite abbiamo vinto lo scudetto eh sì staremo a vedere comunque parliamo di questa partita allora inizia bene subito la lazio al quarto con immobile va in vantaggio 1 a 0 il primo tempo la lazio gioca abbastanza c'è al ventitresimo contropiede la lazio parato da megnano ventiquattresimo luiz alberto tira paramegnano ventinovesimo si vede il milan con le au che tira fuori di poco quarantaquattresimo teo hernandez tira parastracoscia sul finale iniziamo a vedere però qualcosa che non va il milan che cresce inizia attaccare la lazio che non so se per per il merito del milan tu dici o per demerito della lazio ma per un po merito del milan perché la lazio no 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 poca roba si va a riposo su in parità uno a uno inizia al secondo tempo il vantaggio della lazio come inizia al secondo tempo volevo dire come inizia secondo tempo al quarantottesimo giro porta il pareggio al milan 11 di lì la lazio non lo so si chiude fatto sta che non ha più giocato ha giocato solo il milan attaccava la lazio cercava di coprirsi difendersi ma mina cresceva sempre di più tant'è che è poco dopo il gol ha preso anche il palo su un calcio d'angolo con ceco no il palo su un calcio d'angolo sessantaduesimo messia sfiorano di nuovo il palo si vede solo il milano la lazio nel secondo tempo zero non pervenuta nel domanda al 92esimo hanno anche fatto un errore in difesa e ha permesso a tonali di fare il 2 a 1 di fare il 2 1 quindi il gol di tonali insomma secondo te è stato più un errore della lazio si la lazio ha pasticciato in difesa comunque ci sta la vittoria del milan e ha meritato secondo tempo ha giocato solo un milan la lazio non pervenuta quindi quindi niente dai vediamo mercoledì come va a finire prima ci vediamo domani sera ci vediamo sassuolo juve e poi appunto mercoledì esatto soprattutto ci vediamo bologna inter partita appunto da vincere assolutamente perché assolutamente se no veramente poi sono guai va bene quindi anche domani ci saranno due video perché dico anche perché oggi c'è stata prima la compilation c2 di disco parade compilation estate 2001 domani sera prima ci sarà appunto la pfps come ogni lunedì alle sette e mezza e vi dico subito perché già so che cinque pezzi su dieci hanno il copyright quindi adesso sentirò il mio editor se possiamo fare una cosa cioè ve la anticipo già ve la spoiler già pronti via pensavo di fare comunque il video completo e di metterlo su drive quindi con tutte dieci le tracce e di fare il video diciamo monco di cinque tracce quindi solo a metà e di metterlo anche qui su youtube cosa che la settimana scorsa non ho fatto e l'ho messo soltanto su drive beh perché c'era solo un pezzo senza copyright su 8 o 9 e non mi sembrava il caso di fare un video con solo un pezzo adesso ce ne sono cinque che è possibile mettere per cui si può fare appunto poi dopo la pfps verso quest'ora più o meno post partita di sassuolo juve ciao da mm8 e da claudio ciao a tutti